La domanda dell'anno è siamo arrivati alla fine dell'influencing marketing? Personalmente non credo ma c'è un nuovo trend molto interessante e da non sottovalutare e si chiama de-influencing ed è esattamente l'esatto opposto di quello che abbiamo detto prima cioè si tenta sempre di influenzare ma in maniera contraria. Le modifiche a cui stiamo assistendo nel mercato dell'influencing marketing non riguardano tanto le dinamiche ma le narrazioni che sorreggono i pilastri di questo settore che è sempre più in espansione nonostante le ultime vicende. Molti influencer sono infatti passati dal proporre immagini perfette per passare a quelle meno artefatte dando spazio così alla genuinità, alla sincerità sia dal punto di vista tecnico sia in termini di contenuti e conquistando così anche una grandissima fetta di pubblico aggiuntiva. Le recensioni dei prodotti quotidiani tendono ad essere sempre più reali e i content creator tendono sempre di più non solo a promuovere ma anche a sconsigliare i prodotti dando così via ad un vero e proprio fenomeno denominato de-influencing. Il de-influencing nasce proprio dall'esigenza di responsabilizzare le persone all'acquisto riducendo il consumismo e promuovendo la responsabilità ambientale. Speriamo. proprio da questa filosofia nel 2021 sono nati i primi anti-influencer che erano dei semplici creator che condividevano recensioni sincere, schiette che fossero positive o negative poco importava e coinvolgeva i prodotti che appartenevano ai loro settori di appartenenza e per cui già lavoravano o creavano contenuti. Si parla del settore del beauty, del fashion, del lifestyle, del food con l'intento di aiutare i consumatori a fare delle scelte consapevoli ed evitare così l'acquisto di prodotti scadenti o completamente inutili. I de-influencer quindi come dimostrano le azioni delle giovani star non vogliono legare le loro immagini ad i prodotti al solo scopo promozionale ma il loro intento è quello di dare un'opinione sincera con uno sviluppato senso di responsabilità. Un esempio tutti quei video dove si può assistere agli unboxing di alcuni prodotti e relativi test per capire se effettivamente le aspettative che si hanno su un prodotto corrispondono effettivamente alla realtà. alzi la mano, chi non ha mai guardato anche gli svuota la spesa o comunque i creator che vanno al supermercato, comprano tutti i nuovi prodotti e danno il loro giudizio positivo o negativo che sia. Molti poi si saranno domandando che vantaggi può avere a livello di marketing. La risposta è servita. Il influencing è un grandissimo vantaggio anche da parte dell'azienda quindi non solo dei creator che danno contenuti nuovi e si accalappiano anche tutte quelle persone in cui la sincerità è il punto principale. Qui proprio perché data la loro schiettezza possono contare sulla fiducia dei propri follower e di conseguenza avranno anche un alto tasso di engagement. Ovviamente dalla parte delle aziende questo vale se ovviamente sono confident circa la qualità dei loro prodotti e o dei loro servizi. Il rovescio della medaglia infatti è che i creator dando un'opinione sincera sui prodotti o dei servizi testati potranno anche commentare negativamente e quindi l'azienda si assume la responsabilità anche da questo punto di vista. Inoltre coinvolgere dei influencer permetterà all'azienda di mostrarsi come un'azienda etica e trasparente e fare quindi anche la differenza tra i brand competitor. Quindi da quel punto di vista anche l'azienda può essere vista positivamente anche dal consumatore finale. Spero con questo video di esservi stata di aiuto, di avervi dato un'idea di un nuovo trend che sono certa che già conoscevate. Se vi è piaciuto il video mettete like e per sostenere il mio canale iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina in modo tale da rimanere sempre aggiornati quando ci saranno nuovi video. A presto!